Riapre, sistemata e attrezzata con bagni e docce, la casina di Bagnoli, struttura a ridosso della spiaggia pubblica, chiusa a causa di ripetuti atti vandalici durante il periodo invernale. Da domani sarà nuovamente fruibile dai cittadini, che vorranno godersi qualche ora di relax in riva al mare. Sono stati ripristinati i servizi igienici, le docce, sistemati bidoncini per la differenziata, garantito l'accesso ai disabili ed allestite pedane in legno per l'elioterapia. Questa mattina è il sopralluogo del vicesindaco con delega all'ambiente, Raffaele Del Giudice. È un grande successo per l'amministrazione, un buon lavoro di tutti gli uffici comunali che dobbiamo ringraziare perché in pochi mesi questo servizio è riuscito a mettere in sesto questa struttura molto bella che era stata vandalizzata per ben due volte con degli incendi, fatto gravissimo e la risposta è stata immediata e esemplare. Lo spazio è stato perfettamente riattrezzato, oggi lo restituiamo alla città, qui è possibile fare l'elioterapia del tutto gratuito, attrezzato perfettamente, rampa per i portatori di disabilità, abbiamo già fatto le piccole isolette ecologiche, quindi sarà attrezzata anche per la raccolta differenziata, come sta avvenendo in tutta la città, tutti i servizi, bagni, docce, un panorama mozzafiato e la bellezza di Napoli. Un altro pezzo che si aggiunge alla bellezza di Napoli, un altro pezzo di risposta contro chi vuole invece il male della città, ecco prendiamoci cura della nostra città, noi con sincerità e con passione facciamo la nostra parte, chiediamo ai cittadini di fare la propria che la stanno facendo e di continuarci a darci una mano.